Noi siamo qui perché siamo i cittadini che stiamo collaborando dando una mano agli agricoltori, quindi il supporto degli agricoltori abbiamo aperto questo preciso, ci siamo assunti la responsabilità di aiutare gli agricoltori perché se muore l'agricoltura italiana moriamo tutti quanti noi, quindi siamo qui perché non vogliamo le leggi che hanno fatto contro l'agricoltura e ciò che vorranno farci da oggi in avanti, hanno dato il monopolio alla Monsanto e alla Bayer di mettere mani sull'agricoltura italiana e noi sappiamo che questo porterà veramente alla morte dell'agricoltura. Noi non vogliamo mangiare OGM, noi vogliamo cibi italiani, vogliamo il made in Italy che sia rispettato, noi vogliamo che i nostri agricoltori, tutte le loro merci che producono siano vendute fino all'ultima mela, fino all'ultima carota, fino all'ultima patata. Noi invece sappiamo che purtroppo non è così, dietro alla filiera della produzione dell'agricoltura italiana c'è dietro tutto, c'è dietro gli autotrasportatori, ci sono gli ambulanti, i commercianti, i mercatari, c'è tutto un susseguirsi di categorie produttive, quindi toccando l'agricoltura tutte queste categorie falliranno, moriranno, periranno, noi non vogliamo più questo. Il governo non si può permettere di ricattare gli agricoltori chiedendo di non coltivare la terra offrendo dei soldi, questa è corruzione illegale, quindi siamo qua per dare una mano agli agricoltori che sono praticamente la partenza di tutto quello che è il nostro cibo italiano. Come ha detto prima Vincenzo, ci sono tutte le persone che lavorano dopo l'agricoltura e vogliamo salvare il nostro cibo, quella filiera che ci dà il cibo italiano, il cibo italiano non si tocca. Io ho un po' 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 di sede, dove siamo? Grazie.